Lui è Elway, il suo vero nome è Pedro Gil, e so già cosa vi state chiedendo. Che diavolo gli è successo? Sapete cos'è la pirolusite? Già, nemmeno io. La pirolusite è la roba che estraggono nella provincia di Villaverde per trasformare le foglie di coca in cocaina di alta qualità. E allora, direte voi? Il padre di Elway era un minatore, figlio di un minatore, figlio a sua volta di un minatore. In pratica Elway non aveva molte opzioni, ma poi è arrivato Elbokita. Vuoi fare un sacco di soldi? E' saltato fuori che voleva fare soldi, che era un tipo ambizioso. Elway voleva migliorare la pirolusite per produrre la migliore cocaina del mondo. Ecco, gli ha letteralmente scoppiata in faccia. Stando alle nostre fonti, Elway di solito è un tipo affabile, buono con i lavoratori, in pace con l'unidad, però non fate mai nessuna battuta sulla sua faccia. Oggi siamo qui i giornali su Ghost Recon Wildlands sul 26esimo episodio, scusate. Oggi ragazzi siamo in questa nuova regione di Elway, ragazzi, che si chiama la regione, si chiama Villaverde. Ora ragazzi, in questa missione dobbiamo parlare col capo del sindacato, ragazzi, il capo dei minatori. Sappiamo che vuoi liberarti dei soldati del Santa Blanca. Por supuesto, chi vuole lavorare come uno schiavo per quei narcos? Se ce ne occupiamo, siete disposti ad abbandonare le miniere? Però non puoi, Eden. Non potete uccidere tutti i soldati del Santa Blanca nel paese. Se potessimo lo faremmo, ma possiamo ucciderle tanti da darvi il tempo di fuggire con le vostre famiglie. Grazie mille davvero. Il Santa Blanca ha preso il luogo in cui viviamo, San Marchese. Distruggete la miniera. E saremmo finalmente liberi. Questo possiamo farlo. Ragazzi, dobbiamo eliminare le forze del Santa Blanca. C'era che io non ce la vorrei mai come schiavo per questi schifosi. Cosa ragazzi? Ecco, tu mori a anche mare. Cosa? Un tumore invisibile ragazzi, avete visto? Il bug dei Ghost Recon White Lens. Ecco, ragazzi, liberiamo qua tutto. Ma che devono fare? Sono tutti polli, raga. Raga. Ciao. Cosa? Mori male Mori male Ma ragazzi ne mancano pochissimi Dai mori anche il po' male Ok dai manca l'ultimo ragazzi Madonna che confusione Ok ragazzi missione completa Sciopero di nato Forse Santa Blanca è minata O San Manqueta Raga direi di passare alla prossima missione Che sarà questa di qua ragazzi Di Distruggere i due laboratori Sentite ragazzi sentite La perdita rallenterà per mesi la produzione di cocaipè Ok ragazzi Ok ragazzi Saliamo Andiamo a distruggere Il generatore Eccolo qui ragazzi Boom 3 2 1 Bici Ok ragazzi il primo laboratorio è stato distrutto Missione completa Ora passiamo al prossimo Laboratorio Andiamo ragazzi Ok ragazzi siamo qua nel secondo laboratorio Ora distruggiamolo Come muoiono male ragazzi Muoiono male Molto male Cosa aveva trovato Ragazzi Mi sembra non ci importa Fuoco Mamma l'ha sorta Che dà Cosa non si è rotto Ok ragazzi L'ho distrutto Missione completa Ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Se fosse così Pollici in su Commentate Condividate Secondo dei iscritti Iscrivetevi E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao ragazzi